Ciao a tutti e bentornati sul nostro canale Iniziamo a riscaldarci insieme 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 Adesso che ci siamo scaldati alleniamo le gambe Iniziamo a riscaldarci insieme 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 Adesso ci prepariamo per gli esercizi di brazza Iniziamo a riscaldarci insieme Iniziamo a riscaldarci insieme Iniziamo a riscaldarci insieme Ora passeremo a 10 piegamenti con le braccia o sul letto o sul divano Dopo 30 secondi di pausa continuiamo Iniziamo a riscaldarci Iniziamo a riscaldarci insieme 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 How long do I got to keep you, to keep you? How long do I got to keep you, to keep you? How long do I got to keep you, to keep you, to keep you, to keep you. How long do I got to keep you, to keep you? I got to keep you, to keep you, to keep you, to keep you. 10x alternando sempre. 10x alternando sempre 10x. 10x alternando sempre 10x alternando sempre 10x alternando sempre 10x alternando sempre 100x 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 altern I call for you and you're always the same Down in the deep of my mind Try and do it not to keep you, to keep you Try and do it not to keep you, to keep you Try and do it not 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 to keep you Ed ora facciamo un po' di stretching 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 Ed ora facciamo un po' di stretching